salve a tutti ragazzi bentornati su di tutto un tubo e si continua ancora su banishers questo bel gioco della don't nod allora noi siamo come vi dicevo nell'altra puntata siamo due puratori un maschio e una femmina che depurano i fantasmi in male e in questa ci siamo imbattuti in questa isola si chiama new in quella cittadina si chiama new eden e praticamente dobbiamo epurare un male molto più potente di quello cui siamo abituati fino ad oggi e allora nella scorsa puntata è successo che la nostra amata consorte purtroppo è morta e l'abbiamo ritrovata sotto forma di fantasma e quindi praticamente adesso lei ci dà una mano sotto forma di fantasma il gioco è una diciamo una specie di souls con un'ambientazione per me bellissima e niente continuiamo con la nostra avventura adesso andiamo al gioco e vi faccio e continuiamo allora aspettate che devo cambiare il gioco perché ce l'avevo su sull'altro gioco ok giusto non me lo fa vedere c'ha ragione pure lui cattura schermo devo fare perché con cattura gioco non funziona non so perché allora dicevamo siamo arrivati in questo punto qui abbiamo trovato due due un tizio dentro a una grotta una catapecchia che praticamente invaso dai vermi e in pratica dobbiamo riuscire a capire perché c'è a questo problema adesso ci dobbiamo penso infilare nella nebbia ok caliamoci siamo immersi nella nebbia mi sa che per vederci qualcosa o ecco ok vediamo c'è qualcuno noto che c'è qualcuno qui non mi fa andare non mi fa mi fa andare no non mi fa andare seguiamo vediamo da dove arriva la nebbia che sembra che ci sia una specie di flusso tipo da di là ah di qua no eh no siamo in mezzo alla nebbia non penso che possiamo muoverci anche qua non si può salire ah già dobbiamo aspettare che finisce di parlare per fare le cose oh allora qui utilizziamo lei perché è molto utile contro i nemici quando sono sotto eccole invece lui contro i fantasmi così ok perfetto allora lì si può salire dobbiamo però ispezione traccia di una lotta c'è ancora un eco ok quindi possiamo evocare e vedere che cos'è successo ricordiamo ecco Eccola la cosa è successo Eccola la cosa 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 Allora Dobbiamo trovare il corpo Vediamo Abbiamo passato qua Vediamo Allora Vediamo se può scendere Perfetto Qualcosa è vicino Vediamo Eccolo Eccolo Ah ok Ecco qua Mi si attiva di nuovo Vuol dire che qua vicino c'è qualcosa da prendere Ah Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Allora vediamo da dove si può risalire Vabbè risaliamo da qua Eccolo qua Eccolo qua Ok Ripassiamo di qui Allora adesso che non c'è più la nebbia Forse posso andare C'era un posto che avevo visto dove Prima non potevo andarci con la nebbia Magari adesso posso Perché allora in realtà si può Vediamo aspetta eh C'erano due posti dove potevo risalire C'erano due posti dove potevo risalire Ah ecco tipo qua Prima non mi ci faceva andare qua Eccolo qua Cosa prendiamo? Polvere spettrale Pezzo da otto Ok Qui Mi è andata di utile Ah Eravamo dietro la caverna Poi tra l'altro io avevo trovato anche un altro scrigno Da un'altra parte E mi piacerebbe capire come caspita ci si arriva poi Ehi Ehi Che c'è? Mi sono preso malissimo Ah Altri? Sì Allora Qui Si va da qualche parte che non ho guardato Aspetta vediamo Ah no forse ero dove ero sempre prima Sì ero qui ero qui ero qui Qui dove l'ha lanciato giù Sì ok Allora possiamo tornare su Penso Vediamo se salta fuori qualcuno Eh ti pareva Ehi quanta gente Allora Allora contro questi è meglio così Allora finché abbiamo Il potere di lei Lo usiamo Ok Sì Ok Perfetto Vediamo se salta fuori qualcun altro No Allora andiamo Andiamo un po' Andiamo a passare di qui Ah Era una piccola caverna Una cavernina Ok E siamo tornati Dal nostro amico Ok Cerchiamo il vincolo dentro Ok Cerchiamo il vincolo dentro Il suo cibo È la carne della cosa E' vero Non ho mai sentito una parola Mi piace Mi sa che ho capito Cos'è che lo tiene legato Non c'è tra un cucchiaino Tagliati a mano Usati da Jacob Lind E questo vincolo è infuso Dell'essenza del suo fantasma Ecco Appunto Non abbiamo mai visto Non c'è più 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 E' un po' Non c'è più Andiamo a dargli la La bella notizia Ah no, con Ben Aspetta, aspetta, aspetta Allora, io direi Manifestazione forzata, giusto? Ciotole, cucchiaio Ok Eccolo 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 Anthea Duarte We banishers We can help you I'm beyond help Where's Jacob? You tried many times to leave this place I tried and failed Week on week Months on months Maybe We went in circles The woods are tricky, sir Treacherous Mean Round and round we went Round and round And back again Jacob said you both had nightmares The same nightmare Aye And yet we got no sleep Couldn't tell truth from fantasy The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes We know what befell you, Benedict What keeps you here? He does He waits and waits and waits on me He'll not face what he has done And I cannot go I cannot go But I'll not hate him But I'll not hate him How could I? We thought him lost In mind and reason Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end Deprived of a living Deprived of a life Though I denied it I saw it coming I became Wary Some part of me knew what he was thinking Cause I was thinking it too What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance He is I And I am him Why do you not confront him? Why not show yourself? I did He thought me alive He showed me stake he'd scavenged He was so proud He offered me a share He needs to face the truth To accept what he has done To both of us At night he'd read scripture God would mind us If we were good and honest Jacob taught me that We were good We lived honest lives We kept to ourselves Minded our business And no one else's So tell me banisher What did we do To deserve this? This was not God's doing Another powerful entity Is at work here New Eden is cursed Then God has forsaken us And we are doomed Addio Thank you Benedict Perhaps we'll talk again Perhaps we shall banisher Perhaps we shall Ok Andiamo a parlare con Jacob must confess Con il tizio I fear the truth will break him Oh there to you Jacob Mr. Macraith sir I'm sorry Jacob We must talk Something has happened to Benedict What? Where is he? What happened? Come on now Jacob If something's happened to Ben Say so Where is he? Benedict is in pain For his sake You need to remember What happened You need to remember What you did But I No I would never I couldn't hurt him I love him Jacob Look at me It's safe to remember Now tell me What happened On that cliff top? I was tired So tired Hunger was digging holes in me Burning in my throat I could think of nothing else We don't give up We don't give in But I wanted to I wanted it all to stop Yet you gave up on Benedict And then you turned on him I failed him I failed Benedict I was so angry So angry He kept pushing me We kept We argued And I couldn't think When I saw him lying there On the ground Lifeless The whispers said It was him or me Him or me I would have died I should have died For my sins I deserve no better I failed God I failed my friend I'm a monster I deserve no mercy No You're just a sinner Begging for help We both faced a choice Simple and awful To kill or to die You struck first And here we are Do you forgive me? Our fights Are in the hands of others Now Oh Yes Banisher To your job If you're to come back If we're to use The ritual we spoke of This is when it starts Red If we take one step Along that path Jacob is ready to die The others won't be We'll tell lies We'll harvest the essence Of the living I'll shoulder the blame As the man says We face a choice Simple and awful To kill To be together again Or do we part Forever We must decide now Oh Allora Adesso ci viene Messo davanti La scelta Praticamente Allora O accusiamo Il Il vivente Ok Oppure Facciamo scendere Oppuriamo Il fantasma Il problema È che adesso Abbiamo una scelta morale Cioè O accusare Il vivente In modo da poter Poi Far risuscitare Antia Ok E andare avanti Così Sempre Quindi Uccidere una marea Di persone Che magari Non se lo meritano Neanche Oppure Fare il nostro Lavoro Di oppuratori E ogni volta Decidere Chi se lo merita E chi no Questa forse È una cosa Molto interessante Di questo gioco Perché ci mette davanti Proprio delle scelte morali Allora Vediamo Ogni scelta avrà Delle conseguenze In particolare Nel modo In cui Red E Antia Evolvono come coppia Se Red Desidera Riportare Antia In vita Deve accusare Il maggior numero Di coloni Viventi Ok Allora C'è da dire Una cosa Allora Jacob E Benedict Si sono trovati In questa situazione Anche per colpa Del fantasma Cioè Colpa del Dell'incubo Perché altrimenti Questa cosa In questa zona qui Probabilmente Questo problema Non ci sarebbe E tutto Anche gli incubi Sono legati All'incubo A quel male Che c'è a New Eden Però Dobbiamo capire Se vogliamo Riportare in vita Antia E sbattercene Di tutto Di tutti Io Farei così Io accuserei tutti Quindi Prendiamo La via Quella Del cattivo Ok Voglio vedere Cosa succede Poi alla fine Perché Voglio vedere Cosa succede Essendo Un rituale Poi molto Pericoloso Per riportarla In vita Magari Succederà qualcosa Di molto Molto brutto E voglio vedere Che cosa succede Sarebbe bello Poi fare Un'altra run Dove invece Facciamo L'altra parte Sperando che I finali Siano molto Diversi Ecco Allora Io direi Che accusiamo E via Diversi Jacob La verità e la tua morte dovrebbero aiutare il suo soffereno. Non ci può essere alcune mesi mesi. E se il vero non è salvato, dove dovrebbero arrivare l'unico e l'unico? Benedicte, mio amico, scusami. No, no! 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 Ok, è finito. E abbiamo cominciato la nostra via verso la malvagità. Tutti, li uccideremo tutti. Anche quelli che non se lo meritano. E gli rubiamo pure i soldi e ci accendiamo pure il falò. Così, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Allora, riposati. Ah, ok, ci sblocca un'altra cosa. Balzo? Balzo. Antia può attraversare i portali eterei che fungono da scorciatori e fra l'invisibile e l'incarnato. In combattimento, Antia può scattare verso i nemici infliggendo piccole quantità di danni. La manifestazione del balzo è stata sbloccata dopo il consumo dell'essenza che imbeveva il vincolo di Benedict. Ok, e abbiamo sempre due punti. Essenza, in caso di manifestazione, si ottiene quando si sale di livello. Ah, ok. Allora, allora, noi dobbiamo vedere se spenderli di qui o di là. Allora, qui cos'è che c'era? Passare ad Antia subito dopo una schivata frontale... No, questi non mi piacciono. I danni infliti da Red sono aumentati fino al 15% quando più è piena la barra dello spirito. No, non mi piace. Vabbè, ma tanto poi probabilmente sarà da sbloccare comunque, magari. Il numero massimo delle cariche, dei decotti aumentato di 1. Però qui si deve scegliere o questo o questo. Non è che possiamo prenderli tutti e due. Io però andrei magari da questa parte qua. Allora, stesso senso. Parare di Pristina 15 punti spirito. Oppure, danni da attacco pesante caricato aumentati. Danni inflitti da Red aumentati del 30% contro i nemici con salute piena. Oppure, il quarto attacco pesante di Red innesca un attacco con pugno che ignora la resistenza. Ah, il quarto attacco pesante. Danni inflitti da Red aumentati di contro... Vabbè, attiviamo questo, va. E poi, una volta che attiviamo questo qui, possiamo sguicciare tra questi due. Potremmo mettere, allora, questo per adesso. E poi, invece qui servono gli altri punti. E poi, parare... Danni da attacco pesante caricato aumentati. Parare di Pristina... No, facciamo questo, ma... E... Ok, ci siamo. Riposati, no. Inventario. Possiamo aumentare... Possiamo migliorare le nostre cose. Allora, migliorie. Migliora questo. Questo qui non si può fare, manca la roba. Possiamo migliorare le armi. Undici, dieci. Però, se noi miglioriamo questo... Eh, ma non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Teniamo questi qui che fanno comunque più male. E... Ok. Ok. Poi, risorse. Qui non ho niente da mettere... Come... Come armi, come oggetti missione, vabbè. Collezionabili. Ok, perfetto. Evoluzione l'abbiamo fatta. Viaggio rapido non c'è. Ok. Possiamo riposare. C'è ancora tempo per cambiare idea. Abbiamo preso la scelta giusta. Via. Sì, uccidiamo tutti. Sì. Ricorda, a prescindere dal giuramento effettuato, hai la possibilità di scegliere come procedere ogni volta che si giunge a una risoluzione. Tuttavia, tieni presente che le tue azioni avranno delle conseguenze. Fai ascendere o resurrezione. Red giura che aiuterà Antia a tornare in vita, una volta che avranno recuperato il suo corpo dalla sala di culto di New Eden. Per mantenere fede al suo giuramento, Red dovrà sacrificare quanti più coloni possibili con il rituale di accusa. Si. Si. Allora, come si. Settate. Allora, come se. Settate. Allora, come se. I don't know, perhaps too many to ask of you I want us back red. I want revenge on what killed me. I want to live I want it to me sono d'accordo sono d'accordo tutti e due quindi va bene così che problema c'è Allora lui vuole che ritorni in vita perché la ama, lei vuole ritornare in vita perché così almeno si vendica E' a posto direi che possiamo andare avanti col nostro piano malvagio Allora missione completata allora missione iniziate gli abitanti del bosco vediamo un po aspetta 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 un attimo Qui in zona c'era avevo visto un Mi ricordo che c'era uno scrigno da prendere Che l'avevo visto Fai chiederti qua forse non ci siamo mai andati Ah eccolo cazzarola ci sono arrivato Che c'è qua dentro che c'è qua dentro polvere spettrale e sasso delle streghe che è a E te pareva Allora quando è così poi dobbiamo subito Attaccare con Vabbè vabbè adesso ce l'abbiamo fatta Però Quando poi escono i fantasmi dai corpi che noi uccidiamo dobbiamo subito uccidere anche il fantasma che ne esce perché altrimenti si recupera il corpo E non va bene Allora dobbiamo tornare al ponte distrutto Va bene Andiamo di qua Andiamo di qua Ok lei si sente più forte Adesso vediamo Ah perché infatti adesso c'è quell'abilità lì sotto E qui c'è E qui c'è Ah allora ci sono delle linee Andiamo Vediamo Vediamo Come with me Wow, che botta Ok, ok, abbiamo imparato come si salta, va bene Vediamo cosa troviamo qui sotto Perché bisogna andare a vedere tutti i posti Bisogna esplorare Ah, là c'è una roba Eh, che cos'è quello la roba là? Come ci si arriva? Eh, si scende ancora Così può lanciarsi? No, non si può lanciarsi Dove si va? Ah, no, ma questo qui è il... Qua è dove eravamo prima Praticamente Non è dove c'è il corpo sotto di... Aspetta, eh, andiamo Non è dove c'era poi il corpo... Ah, sì, infatti Che non c'è più, tra l'altro Ah, siamo ripassati di qua Ok Allora, lì c'era il ponticello Madonna, l'ho da tre chilometri Vediamo Eh, cosa c'è? C'è qualcosa qui vicino C'è qualcosa qui vicino That jump was quite something Ghosts are quite something But I feel clumsy I have no idea what I'm doing You master it You've mastered everything else No way through here neither Far as I can see Ah, bisogna trovare il modo di passare di lato Godantia usa il balzo con C per iniziare il combattimento Ok, va bene Però dopo Vai, vai Spacca tutto Ti è puro Qualcun altro? Che le vuole prendere? Vediamo se c'è qualcosa da prendere Che in giro ci sono i Ci sono i I scrigni Ah, qua c'è altra gente Vediamo di qua cosa c'è Qui non so se sto tornando indietro Ah no, ok Sono tornato indietro Vediamo l'ora di qua Ah no, ok Bisogna passare di là per forza Bisogna passare di là per forza I roll sono infiniti comunque Cioè Facciamoci questi Eeeh Hola Hai trovato un luogo di attività spettrale in quanto il puratore fa parte del tuo lavoro eliminare la minaccia I punti salute e le cariche di Decotti saranno ripristinati all'inizio e alla fine di questo scontro Alcuni dei luoghi sono persistenti La loro intensità e difficoltà aumenterà dopo ciascun tentativo di annientamento Di purire un luogo fornirà un bonus di potenza permanente Punto attributo Oh, bene Allora quindi Penso che questo sia da utilizzare Il Evocaflagello O manifestazione forzata Questo rituale forza qualsiasi tipo di flagello A rivelarsi Utilizzando parole persuasive Incisioni Bisogna iniziare a conoscere e utilizzare Il video di un animale Che lo lega all'incarnato Il rituale viene realizzato attraverso No Che sia questo qua da usare Vediamo cosa esce Era sbagliato Ah, era sbagliato il rituale Ok Un cinque Questo non è finito Eppurati Quello è un otto Tormento Usiamo lei Facciamo un po' di danni Aspetta Magari facciamo prima fuori Ecco questo Ok fatto Anientati tutti Oh yeah Allora trovo modo per raggiungere l'altra sponda C'è qualcosa vicino Ah là Ok Ah ok c'è un altro Coso da Andiamo a capire come ci si va però Da qui Ah si da qui No Quasi Qua Ehi sempre più brava L'anno il 1000 Tacuino abbandonato Di questo perlomeno la certezza Seguire la New Smith è stato un errore Dopo aver abbandonato le nostre dimone Ed esserci avventurati nella foresta oscura La nostra casa New Eden Ormai un ricordo lontano Mi manca molto Lo stesso vale per Beth Per quanto la nasconda Faremo di nuovo i bagagli Torneremo a casa Al diavolo qualunque Che si aggira nella foresta Che Dio sia con noi Ok Come arrivo là? Come arrivo là? Qualcosa la si illumina Quindi penso che sia una roba Da fare Adesso O dopo Quando ci arriveremo lì? Hmm Vediamo No Oh cazzo Più o meno Però ci siamo persi Quel pezzo là sotto Non so se ci arrivo dopo Alive Alive Yes Trilliant Who are you And where did you spring from? I've come from New Eden town That's a very long way from here, sir Who are you? My name's Red Macraith I work for the selectmen of New Eden town I'm a banisher I'm a banisher Didn't you and the other one Die in the meeting house? I fell in the water And the tide took me I survived Up to now anyway I've never seen a banisher before I expected more Could I please Continue this conversation With my feet On the ground Easy now Stop your jiggling Hold still, I said You try holding still When some lassie's shooting at you In that case Banisher You may escape the trap yourself Wait What? No, no, come on And camp lies down hill I'll wait for you there Come back here Come back here Shit I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining That was entertaining It's good to see you smile Wait Something's there Something alive No No E te pareva Che bello Che bello Che bello Figo You can do it How? Please Go 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 When i nemici sono in posizione di blocco puoi farti stare tra le loro difese come mosse come, gli attacchi caricati di red, le manifestazioni di antia o gli scambi perfetti Ok To, to, to Ci curiamo un attimino? Ok, andiamo dietro a vedere se è qualcosa Proviamo a entrare Oh, guarda un po' Oh Fico Migliora Posso? Ah no, giusto, ci vuole il falò Vabbè, però almeno ce l'abbiamo messo E diavoli che insolzano questo posto Con avanzi, marci, morsicati Punte di frecce rotte, insanguinate, affilate E quant'altro, vergogna Ok Ok Però, cazzarola Di là c'era Di là c'era quel cazzarolo di Posso scendere? C'era quel posto Con quello scrigno E' che di qua si passa, no? No Mi chiedevo se ci fosse il modo di andare Da quella parte là E di là c'è qualcosa lì E mi sembra un po' strano che io non ci possa arrivare Come faccio ad arrivare là? C'è un modo Aspetta, 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 aspetta Probabilmente era da là sotto Aspetta, aspetta, aspetta un attimo Allora In teoria sarebbe Sarebbe di qua Sarebbe qua Eccolo là Però Come ci arrivo io Lassopra? Ah Forse l'unico modo è avere tipo Un fucile No? Non lo faccio Non so se c'è un modo per arrivare lassù Perché se io avessi un'arma da fuoco Potrei sparare lì Quello casca Però probabilmente si risveglierebbe Perché non mi sembra un Però sopra là Abbiamo visto che c'è Un cacchio di Di tipo tesoro da prendere Come ci possiamo arrivare? Questo non è un falò? No Non è contemplato come falò Cazzarola Vorrei provare a Capire come fare Cioè Non capisco se Se si può arrivare poi dopo Qua Perché nella mappa Non me lo Vediamo se mi segna qualcosa Nido Eh vabbè Mi ha fatto il nido Ok Io ho fatto il giro di qua Nido Ora qui Però io lì non ci posso arrivare Non posso sparare roba Non posso far qualcosa No Eh Anche volendo Magari ci possiamo arrivare dopo Quando abbiamo un fucile Vediamo Vabbè Proviamo ad andare verso Quelli Vedete Se io vado qui C'è quel Coso là Da prendere Ma non capisco come ci si possa arrivare Là sopra Perché la C Non me la fa usare Sempre così A casaccio Eh Non posso fare il balzo Se non ci sono Cattivi Se non ci sono fantasmi Quindi ci tocca andare A Wandy Signi di vita Adesso Non ci sono Che cosa c'è Salve Non ci sono Non ci sono Allora Come ci si arriva Qua Corvaccio Maledetto Eccole le signore Perchè c'hanno Quell'affare arancione Senta lei Perchè c'ha questo Buon giorno E un buon giorno A te anche Non ho visto La vostra faccia Mi è nuova Da dove Spuntate fuori E un buon giorno È una storia lunga. I'm Red Macraith. I'm the banisher. Edith Keane. Miss Keane, se prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. That bad, eh? Oh, I don't doubt we'll prevail. But right now we're tired and hungry. Are you out here alone? In the New World, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking. And I don't want one either. I've got a plot to farm and a brother to feed. And we've got a lot of nazi tell. I mean, look around you. How could I possibly want more than all of this? Why should I want silk when I have all this shit? You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Ha! Che si dice? Che si dice? I'm sorry sir, too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Of course. Addio. No. Poi, allora, vediamo. Lì è chiuso. Qui, salve signore. Una vita migliore. Vabbè, addio. Allora, vediamo. Questa è la tizia di prima. Vediamo se c'è qualcosa da rubare in giro. Noi rubare. Noi rubare. Allora, vediamo. Questa è chiusa. Probabilmente ci arriveremo dopo. Allora, dovremmo ritrovare quelle cacciatrici là. Vediamo se sono di qui. Dove ci porta? Dove ci porta? Oh, un bauletto, dè. Forse è proprio di qua che dovevamo andare. 32, 81. No, siamo tornati. Questo mi sa che vende qualcosa. Ah, ecco, è il tizio. Vediamo se c'è qualcosa da vendere. Però non so neanche se mi conviene vendere queste cose qui. Questo è un dovinario enigmatico scritto da uno sconosciuto. Indica la posizione di un tesoro. Uh, interessante. Però, ne vale la pena? Ne vale la pena? Comprarlo? Non lo so. Ah, no, lasciamo stare. Qui non si entra. Questo qua? Ah, ecco, ok. I Wabanaki. Beh, effettivamente. Eh, sì, è un problema un po' di tutti. Qui si può entrare? No, non si può entrare. Di quello abbiamo parlato. Lì non si può entrare. Andiamo a trovare la cacciatrice. Eh, no, la troviamo, eh. La cacciatrice. Adesso un attimo. Qui non ci apre nessuno. Allora, vediamo. Questa ci abbiamo già parlato. Ah, sì, 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 è sempre lui. Ah, quindi non stanno fermi in un posto. Vanno in giro. Oh, l'abbiamo trovata? Forse l'abbiamo trovata. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Newsmith. Anything to Thickskin? Aye. We're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Better than killing you for food, I suppose. All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing. Help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Haig. A widow, like so many. She cooks. Lately, she's cooked shite. Who puts the food aright is a hero indeed. How fares New Eden town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt. Dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. I'll make the rounds. I'll pay my respects to widow Haig and see what's the bar. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meager skills have lately declined. Talk to Jane. Talk to Prudence. Check the forge. Talk to anyone who needs help. Which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. The tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the dark woods. Have you seen a lot of bonewalkers? What the hell's a bonewalker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You know if you'd seen one. God's sparrows. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it. Bonewalkers seem drawn to us. But not them. Is it you? Is it me? We both? Hmm. Can I ask you? What do you know about the nightmare? I have bad dreams. Aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghosts. A bad one. Aren't they all? Time was doomed. My sister knew it. After... Well... After your mishap, It was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Quindi se ne sono andati tutti da New Eden. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf. A wolf, but not a wolf. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still. Just a dream. Is it? Fixed in a part. Those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. Tell me about this beast. Ah, quindi potrebbe essere vera. We hope that they found their way to Boston. As we must. If we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or, we can die in the woods. Pray to a drooling beast. We choose to live. Eh beh, direi che è meglio così. I'll take my leave off here for now. Rest. You'll need it. Allora, direi che adesso andiamo a riposare. Poi ci salutiamo se mi fai salire, magari. Vabbè. Andiamo a vedere che cosa ci hanno riservato per noi. Dovrebbe essere questa. Ok. Sì, è questa. Questa qui è la stessa cosa che avevamo trovato dove c'era la... la ricercatrice. Quella che ci aveva trovato sulla spiaggia. Ho dormito in Woss. E la ricerca è meglio da Jacob Lind's Linn, anche. La pelle cosa su Jacob Lind era non la ricerca. Allora, mia cara Evelyn. Come già sai, io e Alexandra dobbiamo tornare a casa. Il piano delle New Smith sembrava corretto, ma ora Dio richiama i nostri cuori a New Eden. I cavalli pascoli sono svaniti, ma la casa persiste. Ricostruviamo il tutto. Ti scrivo questa lettera per ringraziarti della tua gentilezza e del tuo incoraggiamento risoluto. Grazie ancora che Dio ti benedica. La tua più cara amica, Elizabeth. La traduzione ufficiale della Bibbia cristiana della chiesa anglicana. Non che è un Bibbia ufficiale dei puritani. Ok. Accendi il falò. Che brutto fuoco. L'acqua e il fuoco in sto gioco fanno cacare. Bene, riposiamo. Allora, vediamo se possiamo evolvere. Abbiamo un punticino. Allora, possiamo... Passare da Antia ha sbloccato un attacco e innesca un attacco con pugno che ignora la resistenza nemica. Costa 20 punti spirito. Ok. I prossimi danni subiti sono ridotti da un attacco pesante. Ah, questo è interessante. Se no, altrimenti di qui non ha sbloccato niente. Accumuli punti di purazione. Attacchi pesanti caricati. No, no, no. Mi piace di più questo di qua. Però, anche con lui. Ah, ok. Ok, anche con lui. Va bene. Facciamo questo qui. Controattacco... Queste cose qui dobbiamo poi studiarle meglio. Vediamo un po'. Vediamo se possiamo... Tirare su qualcosa. Questo forse. Vediamo. Sì, ok. E basta. Questo... Niente. Questo no. Riposati. E poi ci salutiamo e ci vediamo qua al prossimo video. Allora, mi piace molto sto gioco. Mi sta intrippando. E adesso abbiamo... Adesso abbiamo... Siamo partiti con la via quella dei cattivi, praticamente. Dobbiamo riuscire a epurare tutte le persone. Più persone possibili. Più esseri viventi possibili. Per poter riportare in vita poi Antia. Quindi... Adesso ci tiriamo su. Abbiamo riposato. Non so se c'è la questione del passaggio del tempo quando riposiamo. Non lo so. Lì c'è anche una... Un punto di domanda. Vediamo cosa ci dice la mappa. Ah, il punto di domanda è qua. Caso di infestazione disponibile. Caso di infestazione disponibile. Qui abbiamo compra. Compra. Ah, ok. Ci sono due... Due cose. Cassa perduta completato. Ah, ok. Quella è stata completata. Perfetto. Va bene. Allora, direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Per Banishers è tutto per oggi. Aspettate che cambiamo. Andiamo sulla webcam. Come solito vi do l'appuntamento sempre domani qua su di tutto un tubo. Per un altro gameplay, un altro video e quant'altro. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi. E ci vediamo alla prossima puntata di The Banishers. Non The Banishers. Che poi sarebbe Banishers, Ghost of New Eden. Quindi ciao da di tutto un tubo. E alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao.